Si dice spesso che chi nasce tondo non possa morire quadrato e se ogni regola prevede come da copione una splendida eccezione che ne confermi la validità, la storia di Gianluca Vacchi senza dubbio ci regala un finale diverso dal previsto. Eccentrico imprenditore italiano, anche discusso in passato per qualche piccolo guaio con il fisco, è ormai da anni un vero e proprio simbolo dei social network, con oltre 18 milioni di followers. DJ, performer e tanto altro, Vacchi sembrava poter incarnare al meglio lo stereotipo dell'eterno Peter Pan, anagraficamente più adulto, ma con la mente il suo lifestyle sempre e comunque da teenager. Sembrava che nulla potesse scalfire la sua immagine da duro, ma guai a sottovalutare la potenza dell'amore, a farlo cambiare almeno in parte, la bellissima Sharon Fonseca, modella imprenditrice venezuelana di soli 25 anni, amore a prima vista che da pochi giorni ha regalato loro il frutto più bello, Blu Gerusalemme, la loro primogenita. Ai balletti di coppia si sostituiranno struggenti Ninna Nanne? Sarà semplicemente il tempo a dircelo.